Musica Si occupa del pallone, faccia velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Ingresso in campo qui dall'impianto sportivo Bomboniera Club si affrontano per la settima giornata Torneo Super 8 Targato SK San Lorenzo Contro RDK Squadre schierate lì al centro del campo A salutare i propri tifosi Ora ci sarà il tocco per la palla e per il campo Tra i due capitani RdK che ora passa a DASI 5 con il completino celeste Mentre completino blu scuro per i giocatori RdK che ora passa a DASI 5 con il completino celeste Del San Lorenzo Ora possiamo dare inizio all'incontro Un saluto da Boteng Ciao ragazzi Primo tempo tra RDK e San Lorenzo Il risultato di 0 a 0 Tra le formazioni in campo Primo tempo in saluto da qualche secondo Ora seguiremo tutta la prima frazione di gioco Il risultato di gioco Il secondo tempo tra RDK e San Lorenzo Il risultato di 1-0 per la formazione del San Lorenzo Ora possiamo seguire tutta la seconda frazione di gioco Il risultato di 1-0 per la formazione del San Lorenzo Il risultato di 1-0 per la formazione del San Lorenzo Il risultato di 1-0 per la formazione del San Lorenzo